Guido il mio Discovery e sono felice. La strada corre via veloce, strumentazione completa, visibilità unica, sette comodi posti e in famiglia piace. Scelgo un percorso e lui diventa un grande fuoristrada oppure una station wagon, trazione integrale permanente, telaio d'acciaio. Al mio Discovery manca solo una cosa, reali, Land Rover Discovery, più libertà al tuo tempo libero, a 36 milioni e 700 mila lire, chiavi in mano. Guardate lassù! Alkmarinari, questo è il mio territorio! Veniamo in pace e portiamo in dono il mio oro! Mambe, l'oro del capitano per la gran famiglia della vostra tribù, sono bianco e buon merluzzo croccante, bastoncini di Capitano Pindus, buon pesce, tanto gusto, tutta forza! Mi fermi a dormire qui? No, preferisco tornare a casa. Che mi hai fatto papà? Ciao! 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 Ciao papà! Sarai un po' stanco E anche un po' famato Mmm, che profumo! Stamattina anche calde A colazione, scegli le raffinate nastrine del mulino bianco Di morbida e fragrante pasta sfogna Le evitate naturalmente Le nastrine, se vuoi, domattina, prova a scaldarle Mangia sano, torna alla natura, con mulino bianco parilla Su questo treno che si muove, tra le nuvole e il sole Teati e lì, tra le tue mani, ieri, oggi e domani In questo giorno così sospeso, tra quel che è stato e quello che verrà Il grande amico sempre ci sarà Sempre con te Teati insieme a te Da sempre teati Il te di famiglia Il grande amico sempre si muove, tra le tue mani, ieri, oggi e domani Il grande amico sempre si muove, tra le tue mani, ieri, oggi e domani La perso a... Allora... Asciugoni, asciugoni, asciugoni regina Asciugoni regina presente Siete disturbati da strani rumori nel seno della notte? Mi chiamerai? Provate un senso di terrore in tattina E chi chiamerai? Chi? Chi a chiapa fantasmi? Chiamateli su A chiapa fantasmi? Sì, siamo tornati Se non ci credete, se volete vedere per crederci davvero Contattate Canale 5 per un doppio appuntamento molto singolare Ghostbusters 1 e 2 Domenica domenica alle 20 e 30 cose dell'altro mondo Su Canale 5